Mi chiamo Alberto Folino, sono italiano, avevo desiderio di fare una rinoplastica e facendo una ricerca su Google ho trovato la clinica Dermolife a Tirana. Poi ho chiamato e ho trovato un personale disponibilissimo, gentilissimo e oggi proprio farò l'intervento e sono contentissimo. Ariana l'assistente è una persona bellissima, eccezionale, convinto subito a venire ed eccomi qua, non vedo l'ora di farla.